Dopo cinque anni dall'approvazione della legge regionale proposta da Rifondazione Comunista e mai applicata, Radicali e Rifondazione hanno chiesto a gran voce oggi, dinanzi a Palazzo dell'emiciclo, la nomina del garante dei detenuti. Tra i consiglieri sembra infatti non esserci convergenza sul nome della Radicale Rita Bernardini, eppure Rifondazione e Radicali chiedono oggi di superare anche questo scoglio e, se necessario, proporre anche altri nomi. Ma purché si arrivi alla nomina, oggi quanto mai essenziale. Pensavamo che con la candidatura da parte di Marco Pannella, di una personalità autorevolissima nel campo della questione del carcere, come Rita Bernardini, finalmente il consiglio regionale trovasse l'unità e procedesse rapidamente alla nomina. Purtroppo neanche questo è bastato. Adesso speriamo che, dopo tutto l'omaggio che l'Abruzzo e la società italiana hanno reso a Marco Pannella, e anche tra i consiglieri regionali si abbandoni un atteggiamento di Beghe. Io vorrei che il consiglio regionale risolveste questa situazione a questo punto imbarazzante. Ha sbagliato Marco Pannella nel proporre la candidatura migliore che si potesse esprimere, direi eccellente? Se ha sbagliato Marco Pannella lo dicano. E i consiglieri che finora si sono apposti alla candidatura di Rita Bernardini ne propongono un'altra. E conseguenza della mancata applicazione di questa legge è la violazione di diritti umani fondamentali. A rappresentare l'osservatorio carceri per la Camera Penale dell'Aquila, l'avvocatessa Aquilana Fabiana Gubitoso, che ha portato all'attenzione del Consiglio anche le oltre 250 firme raccolte nel carcere di Sulmona, affinché si provveda immediatamente alla nomina. Mai come in una regione come l'Abruzzo si sollecita questa figura, che sicuramente è una figura di riferimento per tutte queste persone ristrette. A me personalmente, come alle persone ristrette in Abruzzo, non interessa che la nomina sia quella di Rita Bernardini. Se questo nome può dare fastidio ai nostri consiglieri regionali, non ci interessa, purché si arrivi in tempi sicuramente molto brevi alla nomina di questa persona come punto di riferimento per tutte le persone ristrette. In tutto questo l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha organizzato per il 25 giugno alla Villa Comunale un sit-in per dire no alla tortura e no al regime di 41 bis.